Io credo nel mio prossimo, nei miei simili. È per questo che proviamo a incontrarci e ci sforziamo di capire le nostre vite. Quella sala è un luogo sicuro dove possiamo pensare, discutere, apprendere, ascoltare e ridere e ballare. Tira fuori il meglio di noi. Venga a vedere con i suoi occhi quello che facciamo. Non abbia paura. C'è qualcosa di malvagio che cova dentro quella sala, gralto nella sua cricca. Sono degli atei. La nostra comunità è di fronte ad una scelta. È con Cristo o è con gralto? Ci ha definiti l'anticristo. La Chiesa è nervosa. Dobbiamo insistere. Questo è sicuro. È un disastro per la comunità. Sarebbe una tragedia trasformarlo in un martire. Fatevi da parte! Chi oltrepassa il cancello si prende una palloccola in testa. Da una battaglia all'altra mi sento in trappola, Jimmy. Voglio gralto! Tutti fermi! È in arresto! Perché? Non potete prendere il mio figlio! La prego, signor gralto! Una parte di me vuole urlare. State giù! Tutti giù! Giù! E una parte di me vuole chiedere quale crimine abbiamo commesso. Perché un cavannone di lamiera è tanto pericoloso. Non sono solo quattro mura. È quello che siamo. Jimmy! Jimmy! Siamo con te! E dobbiamo proteggerla. Abbiamo portato il sindaco lettere di sostegno da tutto il paese. Dobbiamo tornare a essere i padroni delle nostre vite. Per vivere davvero. Festeggiare. E danzare. Da uomini e donne liberi. E danzare.